Max Novaresi, correvi come una lepre, dove sei Max? Sì, sono sempre qua, sono qua, sono qua, sono qua, sto scendo dalla Rai, cioè non importa, io li faccio col mio, vado alla bicicletta. Dai, forza, le biciclette, allora, ecco, passo, aspetta, non passi, la te la metti lì davanti, è la mia, ti fa una crescidra, è la tua, infatti niente, come niente? Da questo punto, se la bici non va, niente, come niente? Niente, allora siccome ho tre minuti prima che inizi tutto, io corro, come forescan, la bici, la tessa, la tienila bene, la tessa, vado a piedi, la tessa è questa, non funziona, io corro, vado a piedi, devi andare a Chinatown, la via dove c'è il carnet, a Chinatown, grazie Nicola, prego, prego, corri, che ti fa bene, ti fa bene, ok, vabbè vai, vedremo se ce la farà, aspetta un attimo che sta partendo il corteo del capodanno cinese da Chinatown, quindi adesso ci collega, eccoci qua, Max! Ecco, tanto grazie Nicola per questo meraviglioso regalo, dove sei tu? Siamo in piazza Gramsci nel cuore, ma che bello, con le cuffie! In questo momento, sì, è partito il Drago, guarda, le hanno disegnato gli occhi e inizia ufficialmente la sfilata del capodanno cinese, senti l'applauso con il capodanno! Ecco, io ho qua, guarda, ti faccio vedere, Bruce, ma chi c'è? Cos'è il gabibbo? Chi c'è dentro lì? Chi è lei? Bruce, lei è un'esperta del capodanno cinese? Sì! In quanto è cinese? Sì, sì! Allora, esattamente adesso cosa succede, visto che il Drago è partito? Adesso fanno il ballo del Drago per inaugurare il buon avvenire dell'anno! Ok! Nuovo cavallo! Perfetto! Perché è l'anno del cavallo! Allora, c'è un nuovo cavallo! Esatto! Ecco che parlano, guarda! Loro chi sono? Ci sono i leoni! I leoni! Che portano la prosperità e ricchezza l'anno! Bellissimo! Ed è iniziato! Guarda com'è! Bella come salta! Ma che meraviglia! Sotto però non sono cinesi! No, no, sono italiani! La famosa manodopera italiana! A poco prezzo! C'è! E qua ci sono tantissimi anche! È ormai! È bellissimo! Rassegniamoci a questo! Guarda! C'è la forza, le forze del buonasera, buon lavoro! Buon lavoro! Niente, per carità! E qua c'è il Drago che fa! Il Drago, questa è la partenza ufficiale della sfirata! Non ho capito dove hai detto! Non ho capito l'italiano! Perfetto! E la puoi tradurre anche la partenza! La partenza ufficiale! Sì, adesso partono! Adesso partono! Max, chiedi cosa portano! Cos'hanno in mano? Ah, ecco! Vogliono la busta rossa per inaugurare il nuovo anno! Vogliono soldi! Soldi! Sì, sì, soldi! Un euro! Un euro! Quindi è una raccolta porta fortuna! Max, ti fai dire cosa c'è scritto? Cosa c'è scritto? Cos'è quell'ideogramma cinese? Sì, sì! L'ideogramma c'è scritto Zhao Cai che vuol dire portasoldi! Portasoldi! Beh, vedi là! Cioè, loro non è che vanno molto genovese! Portasoldi! Dammi! 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 Scusa, le offerte da quando hanno inizio? Eh, quando vuoi! Max, dai qualcosa! Dai qualcosa, Max! Volentieri! Ce l'hai? Non c'ho altri cinque euro! Altri cinque euro! Aspetta! Porta fuori! Non staccate! Voglio vederlo! Non ci credo! Venti euro! E non sono i suoi! Vorrei un applauso! Venti euro! Bene! Bene! Ci vediamo dopo! Inizia la parata! Ci vediamo dopo! Ci vediamo dopo! Saluto! 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 Andiamo da Max Novaresi che ci sta raccontando il capodanno cinese! Dove siete? Max? Max? Sei in onda in diretta in questo momento? Siamo qua! Immerso da gente! Siamo dentro la sfilata! Che bello! Questa è via Paolo Salvi! Ma guarda quanta gente! Guardate, venite! Quelli che vedete sono la rappresentanza degli universitari cinesi, vero? Buonasera, lei è? Eh? Sono lui! Nicola, tu che segno sei? Perché questo è l'anno del cavallo! Io sono scorpione! Scorpione! Nell'oroscopo normale! Invece l'oroscopo cinese ha 12 segni che variano ogni 12 anni! Sì! Quindi per sapere che oggi è l'anno del cavallo, chi è nato 12 anni fa è cavallo! Giusto, giusto! E anche chi nascerà tra 10 e 12 anni è cavallo! Ok! Sì! Sì! Ecco! Quindi! Ma se uno è nato nel 67 di che anno è? Nel 67 di che anno è? Ma bisogna fare il calcolo! Sessanta 67 sarebbe credo capra! Ma come capra? Davvero capra! 67 capra! Credo sia intorno dei dittori della capra! Mi ci trovo! Mi ci trovo! Mi ci trovo! Poi invece c'è io sono del maiale! Tu sei del maiale! Tigre! Tigre! Bene! Questa fortuna! E guarda qua dietro che meraviglia! Tanti anche i non cinesi ti sfilano per rappresentarsi! È arrivato un tweet in cui dice che assomigli tremendamente a Mastella! Adesso è arrivato! L'ho letto da video! Sei molto carino! Grazie! Ringrazio chi l'ha mandato! Fred Fabius lo saluto! Potete scrivere a quelli che calcio! Deve essere lo stesso che... Porta qui un po' di Cina! Convinci qualcuno dei cinesi che venne qua! Eh! Va bene! Lo facciamo subito! Vai! Subito! Venite in studio! Tutti! Tutti in studio! Venite! 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 Tutti! Tutti in studio! Tutti in studio! Dai! Dai! Perfetto! Tutti in studio! Sono qua! Sono qua dietro! Le aspetto qui! Io un posto ce l'ho Nicola! Sì! 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 E voglio far entrare dal capodanno cinese Max Nolaresi e le sue ospiti! Arriva un po' di Cina qui nello studio di quelli che del calcio! È l'anno del cavallo! L'anno del cavallo! Eccole qua! Quanta serenità Max! Che meraviglia! Nicola! Grazie! Eccole qua! Queste sono alcune delle esponenti della parata che si è appena venuta in via Sabi! Un grande applauso per... Dove andate? State qua! Dove andate? Vedete! L'anno del cavallo! L'anno del cavallo! Saluto loro! Grazie! Grazie! Come si dice? Ni hao! Giusto? Ni hao eh! Buongiorno! Ciao! 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 Benissimo! Volevano chiedere una cosa ma... Vuoi fare una domanda? Beleci! Ehm... Io sono in questo caso di tutti i giusti e tutti i giusti sono i giusti! Vuol dire saluto Max Giusti se non sbaglio! Sì! E forza Sassuolo! E forza Sassuolo! Max Giusti! Ti saluto! Un grande amico di quelli che è il calcio! Un grande amico! Grazie dell'invito! Mi è sembrato questa casa come tanti anni fa! Sei un grande a casa! Torna quando vuoi! Questa casa è tua! Grazie! Grazie a tutti! Grazie! Vi riaspetto eh! Ciao a tutti! Ciao! Ciao Massimo! Ci vediamo domenica prossima! Quelli che è il calcio! E stasera Juve e Inter! Ciao Massimo!